bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi siamo su gt5 online in questa nuova gara siamo in una gara con il logo tenetevi forte sulla sedia per qualche tifano altro con il logo della juventus partiamo partiamo vai è un face to face cara cara mamma mia fantastic fantastic e ormai ormai è ormai ciao allora andiamo 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 ok vai 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 siamo in dodicesima posizione direi più che buona allora ho con calma ho portato pochissimi face to face nel mio canale quasi nulla cioè forse non li ho mai portati no lo so comunque va bene mi dispiace per quelli che tifano altro tipo quegli interisti napoletani mi dispiace per loro ma questa gara la dovevo fare non tifo juve non tifo altro tengo a specificarlo comunque qui abbiamo la honda civic partiamo siamo in decima posizione allora vai va oh no 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 mamma mia come sto schivando gli altri e no e no non mi venite addosso voi voi non mi venite addosso e non mi verrete addosso l'ho gufata vero comunque questa gara quanti checkpoint ha ha 17 checkpoint interessante sembra corta come gara ma fiatevi sarà molto molto lunga come gara allora partiamo comunque carino come logo e dalla juventus tipo come design come strutturato fantastic partiamo comunque nel nello sfondo abbiamo lo santos e sotto abbiamo l'autostrada perchè sono caduto ok eccoci qua e rimessi in strada ah comunque ho notato pure ora la piattaforma è con colore della juventus rosso si è rosso ciao nero e bianco mamma mia che sono fuso è la colpa della quarantena ma noi andiamo lo stesso ma questo veicolo è lento come una lumaca oh mamma mia mamma mia fantastico ce l'ho fatta allora che ti dico ragazzi non lo so neanche io però ok allora prendiamo il checkpoint qua la macchina aliena mi sa si 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 allora sentite il clacson di sottofondo allora fantastico 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 quello mi suona va bene comunque ditemi sotto nei commenti se vi piacciono i face to face che non li ho quasi mai portati anzi non li ho mai portati quindi fatemi sapere mi scuola il telefono scusate ma oh mi sono dimenticato di spegnerlo comunque prendiamo il checkpoint siamo in sesta quinta posizione cos'è sta roba qua un mini caro armato vabbè saltiamo nel dubbio saltiamo ok vai 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 andiamo 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 oh dai salta mamma mia si può sparare no non si può sparare comunque saltiamo per andare più veloci sembriamo dei canguri ragazzi sembriamo dei canguri in cerca di cibo comunque va bene ok salta speriamo che gli altri non ci vengano addosso per ora nessuno mi sta venendo addosso l'ho gufata volete vedere allora c'è qui appunto ragazzi ve l'ho gufata allora siamo in terza posizione oh cos'è successo non me lo chiedete comunque mamma mia questo questo quello di prima mi sa che ci ha buttato giù non lo so comunque c'è quello rosso con questo veicolo rosso mamma mia facciamo attenzione che questi sono trolloni ragazzi questi vogliono vedermi sclerare nei video appunto guardate questo maledetto mamma mia volevi farmi cadere giù eh volevi ma non puoi perché ho appena preso il checkpoint ora ok allora ora abbiamo la motrice di un camion ok che è quello non lo so ma comunque penso che più avanti di noi si si è più avanti di noi era leggendari quello penso che si sapete si è leggendari mamma mia oh che trick mamma mia si però non mi spingete tutti fuori eh te lo meritavi te lo meritavi e te lo sei meritato comunque andiamo attenzione che ci sono le autorampe qua e allora buttiamo fuori tutti a questo punto no sono tutti i robottini che ci fregano siamo più grandi siamo più forti quindi andiamo prendiamo eh la macchina ok abbiamo l'autorampa mamma mia qua ora si fa il devasto mamma mia via 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 tutti via tutti qua ora si fa il devasto ragazzi sapete cosa vuol dire devasto questo vuol dire devasto questo vuol dire devasto questo vuol dire devasto quello 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 ha schivato a leggendari ah fortunato comunque aspetta mamma mia se ti beccavo comunque mi sta venendo dello starnuto mamma mia comunque allora siamo con la rocket volti che oh però sono sempre in traiettoria della pista c'è questo è passato sopra di me oh ok che è sempre leggendari quello penso di sì comunque andiamo ok fate attenzione siamo in terza posizione miracolo della vita oh piano e ormai respawniamo oh c'è questo piccolino qua quasi quasi lo schiaccio eh mi dispiace mi dispiace ma dovevo farlo comunque qua un altro microbo abbiamo non microbo non nel senso negativo ma microbo che è minuscolo ragazzi guardate eh 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 ho fatto saltare in aria uno però io sono caduto allora ok sta venendo molta gente speriamo con non veicoli molto grossi perché poi mi fanno volare come una gazzella ok per ora mi hanno evitato quindi bravi bravi brava crew appunto io sono un capo crew molto cattivo ragazzi vero? allora andiamo prendiamo il checkpoint un altro checkpoint messo a caso per noi va più che bene tanto che ci frega basta che andiamo a concludere almeno in terza posizione ok grazie cos'è qua il raduno di che non siamo mica in live ragazzi non siamo in live non c'è ancora il raduno appunto ok ok forse ce la sto facendo ragazzi dopo mezz'ora che mi stanno ostacolando mannaggia ai maledetti comunque siamo ancora in terza posizione siamo eh 12 checkpoint su 17 siamo quasi alla fine se magari non ci trollassero ce la ce la faremo speriamo allora ehi la come va mi dispiace scusami chiunque tu sia stato allora qua qua facciamo attenzione c'è un altro camion no 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 allora andiamo no 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 prendiamo il checkpoint prendiamo il checkpoint per carità e ora mi divertirò io mi divertirò io a buttarvi fuori per quelli che mi hanno buttato fuori prima qua ce n'è già uno qua ce n'è già uno allora è quello di prima mi sa che l'abbiamo beccato all'andata ok ok vieni qua vieni qua oh mamma mia oh mamma mia cioè questi veicoli sono troppo pesanti che il mio il mio veicolo ha perso una ruota ragazzi il mio veicolo ha perso una ruota no no che poi esplodo no 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 cioè questo veicolo non so come fa va ancora con tre ruote va bene allora vai 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 siamo 14 checkpoint su 17 mancano altri tre checkpoint poi c'è il traguardo e siamo ancora terzi i primi cioè il primo e il secondo non so se hanno concluso però ok penso proprio di sì non lo so ragazzi nella minimappa segna che non hanno ancora concluso quindi saranno vicini al traguardo siamo 15 checkpoint su 17 dai facciamo le persone civili mettiamoci a destra per quelli che vanno e a sinistra per quelli che ritornano ok vai 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 comunque bel face to face da un bel po' che non li facevo cioè non li facevo proprio senza arreccare non li facevo proprio è stato un piacere tornare a giocare in questo face to face soprattutto col botto mamma mia te lo sei meritato volevi buttarmi fuori soprattutto col botto dalle juventus comunque va bene abbiamo il camion rampa seconda posizione attenzione ragazzi attenzione che leggenda di qua l'abbiamo fregato qui qualcuno col camion è rimasto fregato siamo in prima posizione ragazzi si è ribaltato tutto non andiamo verso quelle auto perchè poi ci rimango fregato pure io ok 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 perfetto checkpoint qua preso oh no 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 non cadere spawner 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 siamo ancora primi siamo ancora primi tutto sotto controllo 17 checkpoint su 17 manca l'ultimo checkpoint al traguardo se nessuno ci trolla concludiamo in bellezza in prima posizione ma sicuramente qualcuno ci trollerà conoscendoli però spero proprio di no bravi bravi quello col camion è stato bravo che non mi ha trollato guarda questo maledetto ragazzi che dire attività fantastica prima posizione per noi niente ragazzi se vi è piaciuto il video lasciate il like iscrivetevi condividete ringrazio i partecipanti in attività e noi ci vediamo alla prossima bella iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale